Il tempo è quasi scaduto per la Grecia e alla Commissione europea non resta che confermare l'indiscrezione circolata negli ultimi giorni. La prossima tranche di aiuti da 8,1 miliardi di euro potrebbe essere spezzata in più pagamenti. La missione arriva per voce del commissario Olli Ren quando ormai mancano pochi giorni al vertice dell'Eurogruppo di lunedì che si pronuncerà a riguardo. Per tutta la settimana sono proseguiti in maniera febbrile gli incontri tra governo greco e rappresentanti della Troica. Il paese ha un assoluto bisogno dei prestiti con oltre 2 miliardi di euro di titoli di Stato che quest'estate arriveranno a maturazione. Ma prima deve affrontare un ultimo apparentemente irrisolvibile problema, quello dei 15.000 esuberi nel settore pubblico richiesti dai creditori internazionali entro il 2014. Andiamo a letto come impiegati del Comune e ci risvegliamo senza lavoro, spiega questo sindacalista. Questa è la logica della Troica e del governo, la morte improvvisa dei lavoratori solo perché non riescono a far quadrare i numeri porteranno le famiglie alla povertà e i lavoratori alla disoccupazione. Il suo destino, come quello degli altri 3.500 vigili urbani scesi in piazza venerdì, sarà deciso nei vertici ancora in corso al Ministero per le Riforme nella Pubblica Amministrazione. Insieme a 7.000 insegnanti queste persone dovrebbero entrare in uno schema di mobilità che prevede il 75% della busta paga per poi essere trasferiti di sede o nel peggiore dei casi lasciati a casa.